Da Studio 54 in compagnia di Paolo Vinchi, un motivo che dedico interamente, con il vostro permesso, ad un caro amico di nome Alberico e naturalmente un saluto da parte mia ad Alberico di Negrone e un caro saluto anche alla moglie Ida, augurando loro un buon lavoro visto che stanno lavorando. Morirai te e i tuoi soldi. Magari anche un po' di cambiare, sono cose che capitano a tutti. Ciao Bacchesta Alberico, titolari del ristorante Negrone, poi ti faccio un regalo, è Alberico? In ogni caso creperai tu e i tuoi maledetti soldi. Lavora 25 ore su 24, roba da non credere. Che fredda c'era, maledetta primavera In poche parole tutti quanti i nostri sponsor lavorano. C'è Gandossi che lavora direttamente 30 ore su 24. Eh? Messo Alberico, attenzione al nuovo comunicato che ti regala Studio 54. Ristorante Negrone, da Alberico, specialità Carni di Cavallo. Ristorante Negrone, Carni di Cavallo, cucinate nei migliori modi. Ristorante Negrone, formaggi alla braccia. Ristorante Negrone, da Alberico, al Curvone di Scanzo Rosciate. Ristorante Negrone, giorno di chiusura, lunedì. Ristorante Negrone, da Alberico, specialità Carni di Cavallo e formaggi alle braccia. Da Negrone puoi gustare il favoloso vino di Scanzo. Negrone, unico nel suo genere. Ristorante Negrone, da Alberico, in Via Piave 8. Ristorante Negrone, da Alberico, specialità Carni di Cavallo, formaggi alla braccia e Carni alla griglia. Negrone, alla Curvone, località Frazione Scanzo Rosciate. Allora, sperando che Alberico abbia sentito la sua nuova pubblicità, era un regalo questo da Studio 54. Le 23.05 in questo istante, Paolo Vinchi si congeda. Naturalmente anche Tony saluti, rimanda a tutti quanti voi, a tutti e a tutte. L'appuntamento è rimandato sempre su questa doplice frequenza, dai 95.4 al 95.7 di Studio 54. Una buona notte a tutti e a questo punto vi lascio in compagnia dell'uomo della notte, o meglio Renato. A questo punto regia, sigla! Vidaccia Cavallina, mi scappa sempre la parolina. Eccola la parolina. Ristorante Negrone, specialità Carni di Cavallo. Piatti esclusivi, antipasti di cavallo, carpaccio, carne salata, carne trita, alla tartara. Ristorante Negrone, salame, bresaola, tutti i tipi di formaggi alla brace. Ristorante Negrone, specialità Carni di Cavallo, unico nel suo genere. E poi grigliate, costine, cotecchini. Il tutto alla brace. Stracotti di carne di cavallo al Barollo. Ristorante Negrone, da Alberico. In Via Piave, numero 8, al Curvone. Ristorante Negrone. Località Frazione Scanzorosciate. Una cosa importante, molto importante. Alla Ristorante Negrone, innaffia il tuo pranzo con del buon moscato di scanso. Ristorante Negrone, da Alberico, giorno di chiusura, lunedì. Ristorante Negrone, unico nel suo genere. Piraccia Cavallina, mi scappa sempre la parolina. Eh no, questa volta la parolina te l'abbiamo data. Anzi, le paroline. Ristorante Negrone, da Alberico.